Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio spiegarvi come guadagnare al meglio con le erbe. Nel mondo di gioco troverete diverse tipologie di erbe che vanno raccolte e che insieme formano dei set di erbe. Ogni set di erba permette di creare una medicina e questa medicina può essere venduta al negoziante per una cifra differente ed è qui che voglio prestare attenzione. Come vedete esistono diverse tipologie di erbe, ci sono diverse pagine. Ogni tipologia di erba se fusa tra loro dà vita ad una medicina differente che vedete qui sulla destra. Le medicine non sono tutte uguali tra loro ma hanno un costo differente a seconda della rarità della pianta raccolta. Ad esempio se prendiamo la cura di Kenshu ha un costo di 450 yuan che è la valuta di Shenmue. Questo perché è composta questa medicina da ingredienti molto difficili e rari da trovare. A differenza magari della cura alla liquirizia che ha un costo di 8 yuan perché si fabbrica con erba classica che trovate ovunque. Quindi il mio consiglio è quello di andare in giro per il mondo di Shenmue a raccogliere tutte le erbe che trovate. Potete identificarle tramite un bagliore. Io ne ho raccolte tantissime quindi sono difficili per me da trovare anche se ci sono perché vengono generate in modo random. Però se vi capita di imbattervi nelle erbe o nelle piante luminose raccoglietele. Non dovete fare altro che zoomare su di loro e premere la X. E poi andate al negozio che vi mostro adesso per vendere i set completi. Ora alcune piante diciamo vengono utilizzate per più set quindi prima di vendere le piante o erbe al venditore assicuratevi che la medicina che state vendendo abbia un costo alto. Altrimenti rischiate di monetizzare lentamente e quindi arrivare magari alla somma che vi serve per fare degli acquisti molto più lentamente del normale. Quindi una volta che avete raccolto le erbe andate qui al negozio iniziale e dialogate con il venditore premendo il quadrato. Andiamo avanti, selezionate compra, selezionate vendi e come vedete avete il set di erbe. Qui sulla destra ci sono le medicine che potete vendere. Non vendete le medicine a caso ma tenete bene a mente il prezzo di vendita. Quindi con i dorsali scorrete le pagine fino a quando non trovate una medicina costosa che potete vendere. Se vi trovate in questa condizione che potete vendere solo medicine economiche io personalmente vi consiglio di aspettare quindi andare in giro a recuperare le piante che non avete per vendere medicine molto più costose. In questo modo potete guadagnare molto più denaro dalla vendita delle erbe in Shenmue 3 nel villaggio di Bailu.